Sono arrivati da tutta la Toscana e si sono seduti in ascolto come i loro studenti gli oltre 60 insegnanti delle scuole superiori coinvolti nella Summer School organizzata dalla regione toscana a Siena sui razzismi di ieri e di oggi, in preparazione al treno della memoria che anche nel 2019 porterà centinaia di studenti ad Auschwitz sui luoghi dello sterminio nazista. Un'intensa cinque giorni dal 20 al 24 agosto negli spazi universitari del Santa Chiara Lab a 80 anni dall'emanazione delle leggi antiebraiche in Italia, ad aprire i lavori condotti da Ugo Caffaz alla vicepresidente della regione toscana Monica Barni, il sindaco di Siena Luigi De Mossi e il rettore dell'Ateneo Senese Francesco Frati. Noi vogliamo offrire a questi insegnanti che vengono da tutta la Toscana, come del resto abbiamo fatto negli anni passati, vogliamo offrire degli strumenti di conoscenza. Abbiamo radunato qui al Santa Chiara, a Siena, tutti i migliori studiosi di quel periodo appunto che va dall'emanazione delle leggi razziali fino allo sterminio. Sullo schermo la voce della senatrice a vita reduce dall'olocausto Liliana Segre e quelli dei sopravvissuti che non hanno perso la voglia di raccontare l'orrore perché la memoria va custodita tenendo a mente gli eventi della storia che oggi rischia di essere travolta dalla velocità del mondo contemporaneo. Questa velocità talvolta ci fa dimenticare quello che è il nostro passato e senza passato non ci può essere futuro. Per cui l'obiettivo apprezzabile di questo tipo di iniziativa è quello di inquadrare nel giusto modo il nostro passato. E i ragazzi? Sono loro i destinatari finali dell'iniziativa attraverso il lavoro dei loro insegnanti? Sono loro che devono capire la storia oltre l'emozione che l'arrivo ad Auschwitz sempre genera. I meccanismi sono sempre gli stessi. Crisi economica, debolezza della politica, ricerca del proprio interesse di ciascuno, ricerca di un capo espiatorio a cui attribuire la difficoltà che ci sono, la ricerca di un capo, quello che si chiama oggi leader, che risolva tutto. Protagonisti della Summer School, poi massimi studiosi ed esperti di quell'oscura epoca del Novecento, costata la vita a milioni di persone.